mi fai la con te che ti guarda così pino pino art chi gliela attira? chi gliela attira la pallina? io la tiro aspetta aspetta via 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 che non la prendo ma neanche guarda ma vai adesso si spalma contro la spalma house Artur se arrivano gli amici dobbiamo smettere quella palla perché con gli amici si gioca con loro fino a litigare ok? ancora una tirata questa pallina? grazie